musica John Borno ragazzi, questa sarà una breve video guida su come utilizzare al meglio il forum partiamo intanto dal regolamento che se non l'avete ancora fatto leggetelo perché comunque spiega anche cose c'è un link alla guida introduttiva che in pratica è, oltre ad aver il riassunto del regolamento ci è spiegato bene nel dettaglio tutte le cose che io non riuscirò a dire in questa video guida come usare il forum proprio, un utente vedete lo share che non c'è più, ecco, epic fail vabbè, spiega tutto, discussioni di interesse, ci sono molte cose, quello lì, qua, controllate la guida introduttiva appunto, poi ci sono gli annunci che sono, cambiamo abbastanza spesso, quindi tenete d'occhio e gli annunci dove è che li scriviamo? Gli annunci li scriviamo nel blog del forum inoltre controllate il nostro facebook, twitter e youtube che sono strettamente collegati col forum e tra di loro e per chi volesse abbiamo anche una pagina google più che per ora non abbiamo sviluppato tantissimo ma comunque ci faremo qualcosa inoltre salutiamo tutto lo staff e ringraziamolo per il lavoro che fa grazie ragazzi in alto qui potrete vedere main videogames xbox world off topic cliccando su ognuno di questi si andrà direttamente alla, vedete, alla sezione al gruppo di sezioni in questo caso xbox world quindi per comodità usatelo qua in alto abbiamo voluto anche dare molta rilevanza alle schede giochi che in pratica sarebbero le discussioni ufficiali cioè tutte quelle discussioni in cui chiedere aiuto di un determinato gioco o comunque anche solo parlarne, chiedere consigli e tutto per questo possiamo trovare o la lista in ordine alfabetico totale oppure quella in ordine alfabetico per genere che in pratica come vedete azione avventura, giochi di ruolo, musicale, sparatutto ogni categoria di gioco, abbiamo messo le principali ha sotto spoiler, va clicca per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico dei giochi di quel genere lì che abbiamo nella sezione quindi controllatelo e scrivete se avete tale gioco così vi aggiungiamo alla lista inoltre nuova discussione ovviamente per aprire una nuova discussione dopo essersi presentati che ricordiamo è obbligatorio per scrivere nelle altre sezioni del forum area generale se avete problemi con il forum ok scrivete qua o se proprio non riuscite inviateci a uno dei tre admin un messaggio privato su facebook come volete tanto le leggiamo poi per chi volesse diventare anche un utente premium e quindi vuole partecipare attivamente al forum gli piace stare con noi, si diverte eccetera un consiglio che vi posso dare è leggere, commentare le news discussioni generali comunque insomma rendersi davvero attivi sotto riflettori vi consiglio di darci un'occhiata che è una rubrica in cui intervistiamo i giocatori di xbox live tra virgolette VIP come questo qua è l'ultima di Kenobit che è il redatore di xbox magazine ufficiale che salutiamo ma comunque ne faremo anche altri a youtuber e a voi a voi community soprattutto poi c'è la sezione trucchi e soluzioni con guide obiettivi e glitch in aggiunta a guide console modding eccetera che in pratica hanno anche loro il loro ordine hanno il loro topic in ordine alfabetico quindi anche lì controllate tutte le guide cliccate e ve le ritrovate bellissime messe a posto molti utili anche le recensioni poi discussioni hardware live tornei che nel momento in cui parlo stiamo organizzando un torneo di FIFA 12 che se raggiungiamo i 32 iscritti ci sarà in palio per il primo classificato con tre mesi di gold quindi spargete la voce e niente xbox italia ufficiale clan che non siamo competitivi quindi niente clan war principalmente cioè non sono previste almeno e che è in scritta relazione con appunto video ufficiale xd che è il nostro canale youtube sotto la sezione helpdesk in cui bisogna scrivere per aiuti tranne che per i giochi che lì vi ricordo andate nelle schede giochi altre console in cui ovviamente si può parlare di tutte le altre console problemi eccetera e la sezione off topic che è una di quelle più divertenti più di manica larga potremmo dire intrattenimento la canzone del momento avete capito giochi da forum molto divertente vi consiglio di controllare gli indovinelli della spinge che vi e di non cercare su google non barate mi raccomando videoteca computer e internet mercatino se volete vendere o cercate qualcosa e off topic con spam e affiliazioni e le cose minori in basso di nuovo i link quindi salutiamo tutti quelli online e tutti gli altri un arrive ciao e al prossimo video ciao